Triste notizia, riguardo il nostro fuoriclasse. Ogilund se ne sta andando. Nuovi rumors circolano sul mercato delle trasferimenti riguardo alla vendita di Ogilund, che è pronto a lasciare l'Atalanta in questa stagione del 2023. L'azienda con sede a Bergamo è pronta a ottenere un grande profitto, valutando il giocatore a più di 50 milioni di euro. Benvenuti nel canale di notizie dell'Atalanta. Lasciate un like se siete rimasti sorpresi da questa notizia. Il Manchester United sta puntando sull'attaccante ed è pronto a fare acquisti nella Serie A, cercando anche Onana dell'Inter e Ogilund dell'Atalanta. Sorprendentemente, il club inglese ha deciso di investire una grande quantità di denaro per soddisfare Tenag, che ha richiesto esplicitamente questi giocatori. La Juventus, un altro club interessato a Ogilund, è fuori dai giochi al momento, picché non può concretizzare l'operazione senza la vendita di Vlaovic. Secondo gli ultimi rumors di mercato, riportati da Rudy Galletti, durante le trattative tra Atalanta e Manchester United per Ogilund, i giocatori di Bergamo hanno cercato informazioni su Greenwood. La strategia dell'Atalanta è quella di vendere Ogilund e contrattare Greenwood dal Manchester United. L'idea è emersa nelle ultime ore, con il club che sta negoziando il trasferimento dell'attaccante ai Red Devils, che sono disposti a tutto per assicurarsi Ogilund, considerato il principale obiettivo di Tenag in questa finestra di trasferimenti. Esiste ancora la possibilità di coinvolgere Mason Greenwood nella negoziazione di Ogilund con l'Atalanta, al fine di ridurre il prezzo dell'attaccante. Greenwood potrebbe lasciare il Manchester United quest'estate, aprendo la possibilità di uno scambio tra i club. Bene ragazzi, ora voglio sapere da voi, come ha colpito i vostri cuori questo scambio di giocatori. Commentate qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornati su tutti gli aggiornamenti dell'Atalanta. Condividete con amici e fan per far crescere la nostra comunità e raggiungere sempre più appassionati della Dea. Forza Atalanta!